In Italia, con lo Limone Awards, tutti gli altri video sono americani. Sì, per il momento sì. E per niente, quel gioco consiste che noi dobbiamo accumulare più smeraldi, diamanti possibili, e poi prendere sconto i dance. E poi dobbiamo spenderli con i bigoney, spenderli e comprare gli oggetti. E poi tutto il resto diamo in beneficenza. Quindi, volcano, arcti, 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 via, andiamo lì. Vai. Non so, la neve mi fa lagare, perché se no, in quelle team, team selection, blu, andiamo nel blu. Ah è pieno, è pieno, è pieno, è pieno, andiamo nel red, è pieno, andiamo nel verde va. Verde. Ok, perfetto. No, ti ricordi, quelli erano i pro? I pro in quale stavano nel verde? Non mi importa, i prossi sono noi. No, l'altra volta stavamo in un... Ricordo solo che i rossi perdevano sempre. Sì, è vero. Non so più gli altri. Non so più gli arancioni. Oh, sta per iniziare, eccolo. Ok, fammi dare un occhio ai commenti, così vediamo se c'è un altro altro. Questo non è Arctic proprio, non c'è zecca niente, questo è pieno di lava. Il più del serve, è in descrizione, raga, è il terzo di più in descrizione, Cubecraft Games. Uh, ok. Allora, praticamente c'è questo villager bruttissimo, questa faccia brutta, e noi dobbiamo andare a trovare i generatori di diamanti. Allora, a destra ci sono quelli di ferro, che abbiamo iniziato a prendere, quindi... Ma ci sono gli zombie? Sì. No! Aspetta, abbasso... No, questo qua va bene. Cube bombing of... Don, 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 don. Ok, attenzione, qua. Beh, tanto non mi vedono gli zombie. Sono fighi i zombie, come sono fatti, eh. Uh, aia, aia. Sì, sì. Questo stile... Tieni duro. Fatto bene. Allora, qui, questo succede, se noi, se si muore, tu, prima del conto alla rovescia, cioè, prima che finisce il conto alla rovescia, perdi tutto, perdi gli item. Se muori dopo, gli item ti rimangono. Vai a potenziarlo, vai a potenziarlo, vai a potenziarlo, c'è il ferro qua. Ne ho 30. No, blu, mi devi aiutare però, ah! Hai la spada, hai la spada in mano! Non ce l'ho, ah no, è vero, sì. È vero! Aspetta, ci penso io, li ho sciotto da qui. Verpo. Tu pensa... Ho due cuori. Tu quanti ne hai? E anche io. Allora morirò, tieni. Oha! No! Allu Akbar! No! No, sono vivo! Vai allahu Akbar! Sono vivo! Allahu Akbar! Sei potenziato, sei riuscito a potenziarlo? No, sono riuscito a prenderle. Adesso ci provo. Ne ho potenziato uno. Uh, grande! Ho mezzo cuore ora però. Vai. Non fa niente, non morire! Sì. Non morire, sennò perdiamo... Stai lì, devi stare dentro l'area. E non la cosa... Il ferro rimane a terra anche quando muori. Perfetto. Per caso sapete... Oddio! No! No! Sono morto. Ecco. Ok, allora, leggiamo la chat. Ho sonno. Blu, vuoi un po' di coca? No, grazie. Eh... Per caso sapete... Se non va la tastiera, quale potrebbe essere il problema? La tastiera. Sei Windows 7 o un bug? Boh, non lo so. Adesso si parlano un po'. Allora... Dai, riproviamo round 2 con gli zombie. No, comunque... Uh, porca miseria. Non mi... Non fa... Io, raga, solo coca cola. Vai! Solo coca cola, esatto. Coca-Cola! La canzone di Pasqua Rossi. Guarda come ci muoio qui, eh? Che brutto. Guarda contro i zombie, perca contro i zombie, ma è possibile. Continua a morire. Aspettiamo la reputazione del canale, così. No, cosa dobbiamo fare? Comprarci l'armatura. Guardate gli altri, se ne sono già comprata. Eh sì. Però l'armatura proprio in... Quella marron... Marron merda, proprio. Quella marrone. Quella schifosa lezza. Quella marrone... No, no. Vieni a comprarci l'armatura e basta. Allora. Mago l'ho preso! Sono così cretino che non l'ho preso. Aspetta, eh. Spero... Ma no, l'ho presa! Che sta laggando, quindi arriva dopo. Ah. Comunque abbiamo attivato... Ah! L'hanno attivato l'oro, quindi possiamo andare all'oro, immagino. Credo. Va bene, tanto per sicurezza mi faccio l'armatura. Ok. Yes. Io vado a vedere se l'hanno attivato nel frattempo. Mancano sei minuti prima che cadano i muri. Ok. E si scialattrà la tranzolla. Sì, abbiamo tutto il... Proprio... No, ho fatto due pantaloni! Che stupido! Beh, buttali. L'oro è attivo. Sì, si può andare all'oro. Ok. Li vuoi dei pantaloni? Sono utili nel combattimento. Sì, come sono? Oro! D'oro! Grazie. Non è vero. Me l'ha preso... Qualcuno ha preso il mio oro. Io ne ho sette. Otto. Ok, me ne vado. Nove. No! Lasciatemi andare! Voglio andarvene! Via! No, sto per morire! Sto per morire! Sono morto! Ma dove sta l'oro? È lì a terra. Ma nessuno che copre il re! Nessuno copre il re! Eh, ma c'è tempo, c'è tempo. Abbiamo il tempo di sbloccare i diamanti. Non vedo l'ora che cadono i muri, così andiamo poi all'attacco. Ok, vi leggiamo di nuovo qualche commento. 69. Stanno spammando numeri! Stanno spammando numeri! Basta con i numeri! Poi ci insultano leggermente. Dove trovo l'oro? Dove lo trovo l'oro? GG, l'hai, bimbo. Ok. L'oro lo trovi a sinistra. Cioè, vai dritto. Ho lì il diamante invece, no? Il diamante è pieno di sopra. Eh, ma a dubito ci riusciamo ad andare... Ho preso 13 di oro. Vado a comprare l'armatura. Prenditi un po' di oro anche tu. Eh! Oddio, ma... Proprio in questo momento lagga, non ci credo! No! Non morire! Oh! L'ho scampata! L'ho scampata! Ok. Sì, l'ho scampata! Vieni a comprarti qualcosa, allora. Allora... Sì! Con l'ora mi posso fare full chain, credo. Uop. Uop, uop. Ok, darpo, full chain ora. Adesso muoio più difficilmente. Ragazzi, se arriviamo a 15... Io l'ho detto già. Se arriviamo a 15 spettatori... Ma come si... Dove si legge il contatore? Io vi regalo un kebab. Dove si legge il contatore e il spettatore? Vediamo 15... No, lo leggo io. Ok. No, lo leggi... Non lo so. Tipo al posto delle visualizzazioni. Ci sono... Non lo so. 15 spettatori, per esempio. Ok, fammi leggere. Darp, dov'è il gioco di Hello Kitty? È vero, ho il gioco su Hello Kitty. Se arrivo a... Oh, speciale Hello Kitty! Speciale Hello Kitty! Speciale Hello Kitty! Speciale video su Hello Kitty! Allora. Mi vuoi comprare un pezzo di pane? Un panino? No, eh? No, no, mori di fame. Perché... Sti scheletri maledetti. Ti fregano gli scheletri qua nel coso dell'oro. Fregano gli iscritti. Ok. Ho 12 di oro. Ti posso prendere... Prendi, vai a comprarti l'armatura. Dammi del cibo solo. Di nuovo? No, prendi quella in... Eh, non ce l'ho il cibo. Allora, niente. Vado a prendere il cibo. Tu vai a comprarti l'armatura. Quella è incantata. Quella come la... Quella che ho addosso io. È brutta. Eh, però è utile. Stavo cascando nella lava. Ciao, Fulmine35. Villa, c'è schifoso. Ciao, Lodex. Sei un grande, Lodex. Io non saluto perché so... Ti saluto perché so che sei nei nostri top fan, credo. Mi sembra. Non lo so. Mi sembra di ricordare ai nostri canali. Al mio? Al mio, probabilmente. Perché il primo è... Gregesseregreg, è il mio. Gregesseregreg... E quello... Con quelli con il nome... Comunque è figo. Tipo che ne so. Eh, Alice e Bodice. Sì. Sì e no. Pure. Ok. Maledetti. Questi sono... Se vedete che la live va a scatti, è colpa dell'Isis. Sì. Che hanno attaccato i server. Che hanno attaccato i server. Sì. Non possiamo farci niente. Che attaccano i server di Minecraft. Non possiamo farci niente noi. Guarda che pro parkour. Guarda che casca anche se è una scala. Non è un parkour. Io ci casco sicuro. Non hanno attivato... Perché gli Anonymous dovrebbero attaccare il mio computer. Perché i miei... Perché gli Anonymous dovrebbero stare contro di me. Così a caso. A random. Boh. Mi stai antipatico. Neanche mi guardo... Barbara d'Urso. Non faccio niente di male. Uh, Barbara d'Urso. È famosissima su Instagram. No, sono cascuto. L'ho aggiunta su Instagram. Sono cascuto. Sono cascuto. Naruto. Allora sei cascuto. Naruto Uzumaki. È cascuto. La vedi questa funavia, blu? Sì. Blu, c'è questa funavia. Questa... E prendiamo un minecart. Possiamo fare tutto... Vediamo dove va. Vedi? Questa... Eh... Sì, si può esplorare volendo. Però... Può esplorare, però non so poi dove porta. Magari porta... Io ti consiglierei... In un minuto casca il muro, eh. Esatto, la preparazione. In un minuto dobbiamo... In un minuto dobbiamo combattere contro il... Il male. E salvare la città di Arkhampton. Sì, contro il male. Perché Lodez dice... Terp, se la tastiera non va, sai per caso... C'è un problema di un tasto o è un problema di tutta la tastiera? In che senso? Prova a staccare e riattaccare l'attacco USB. La presa USB, se è una tastiera USB. Praticamente. O... L'hai attaccata in una porta USB sbagliata. Quindi non... Ah, qui c'è il bordo della mappa. La fine della mappa. O quindi l'hai attaccata in una porta USB che non legge... La tua tastiera. Oppure... Sto per andare nel mezzo. Appunto, prova semplicemente a staccare. No, no, però aspetta che io non so niente. Ci sono 7 secondi. Vorrei aspettarti, ma ci sono 7 secondi. Ma... Devo prendere un po' di smeragli, almeno facciamo una spada power in smeragli. Io non so perché, ma sta laggando. Non mi lagga mai. Adesso che sto facendo un live mi lagga. Oh mio Dio, no, c'è un overpower. Questo... Prova a metterla fa... Gra... Grafic... Fast. Dovrebbe andare meglio. Ma comunque penso che... Visto che è Minecraft... Per usare Minecraft... Mi serve una mano, derp. Minecraft funziona con la rama. Oh mio Dio, è una strage là in mezzo. Vedo, arrivo, blu. Aspetta, muoio così ho tutta la vita. Vado. Lo faccio per te, eh. Così ti aiuto. Perfetto. Ok dai. Sono morto da solo. Siamo il verde noi, vero? Sì. Ho preso 4 smeraldi. Non so cosa posso comprare, ma spero qualcosa. Se no li dropperò all'ora lo spawn. Questa modalità di gioco... Ma se io chiudo la live, sì. Se chiudo la live, che succede? Penso che... No, no, se chiudo la live, scusa, se chiudo la dashboard. Boh. Mi vogliono male. Decisamente. Ok, mi serve un'arma. Oh, ne servono 5. È stupido questo, sta per uccid... Mori! Mori! Che combini, Darpo? C'era un tizio qua che voleva distruggerci il re. Non vale. No, dobbiamo stare attenti a sta cosa. Hai ragione. No, 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 è morto, è morto. Tranquillo, tranquillo, è morto, è morto. A me serve cibo. L'hemos, easy, easy, l'hemos, squeeze. Ok. Noi abbiamo il re, quindi se loro muoiono, muoiono sempre. Sì, due re sono andati fuori, quindi rimangono il verde e il blu, che sono i nostri, esatto. Mi vuoi comprare qualcosa? Sto comprando cibo, in realtà, o ti serve qualcosa? Tieni, ho questi per te. E anche questa, che ho ucciso qualcuno, credo. Ragazzi, non posso guardare la chat, adesso ve la guarderò dopo. Comunque, leggiamo tutto quanto quello che ci avete scritto. Sei pronto per andare in mezzo con me? Sì, un attimo, mi metto questa cosa da... No, non posso. Cioè, mi hai detto solo la cosa, no? C'è tutto questo che ti posso dare, volendo. Sì, delle altre cose non ne ho. Ma sì, dai. Ti aspetto allora all'entrata, là, così proviamo ad andare di nuovo nel mezzo. No, è morto il nostro re, non me ne sono neanche accorto. Come è successo? Ma che è stato... Come... LOL. Ma com'è successo? Com'è successo? C'è stato un ninja qua. Era anche murato. Come è morto? Lo so. Aspetta, faccio una cosa. Ragazzi, tolgo... Dopo un attimo la live e la faccio ripartire. Voi restate lì. Oh, è... Centizio, blu, centizio... Blu, 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 blu. Buttano nella lava. Nella lava. Tento, non morire. Facile non morire, dirlo così. Non morire, sono morto. No, ragazzi. Vai a spiegarlo alla live ora. E ti vedo la testa. Vai a spiegarlo alla live. No, comunque provo a fare una cosa. No, comunque provo a fare una cosa. Grazie a tutti.